In rete sono usciti alcuni leak per quanto riguarda il Traveler di Pyro, nulla di concreto in questi leak, però diciamo che si parla tanto delle possibilità di questo personaggio, che potrebbero essere importanti, perché insomma è un personaggio gratuito, che tutti quanti aspettiamo, che dovrebbe essere relativamente accessibile, quindi ci guarda, potrebbe avere appunto delle potenzialità non indifferenti. Ora, non c'è da me di andare a smentire o confermare robe, però quello che ti posso dire è che un paragone che è stato fatto da tante persone in rete, a mio modo di vedere abbastanza, in modo strano, è che appunto hanno voluto paragonare il Traveler di Pyro al Traveler, o quantomeno al Trailblazer di Onkai Star Rail versione imaginary. Per quale motivo? Perché a detta di queste persone dovrebbero avere la stessa potenza, o quantomeno i due personaggi sono simili prima perché ti offrono un qualcosa che normalmente non hai nel gioco, sempre al livello di potenza. Ora, io non sono d'accordo, nonostante non ho visto appunto questi presunti leak sul Traveler di Pyro, però non sono d'accordo con questo paragone per quale motivo. Perché, tecnicamente, il Trailblazer immagine di Star Rail ti serve per fare una meccanica unica. Quale sarebbe questa meccanica unica? Sarebbe la meccanica del Super Break, che poi certo la puoi triggerare in altri modi nel Divergent Universe, o mi pare che lo potrei fare anche con la signorina Rappa quando arriverà su Star Rail, insomma, tutte queste cosine qua. Però, appunto, il senso è che questa meccanica non la puoi sfruttare senza il Trailblazer immagine in questo momento all'interno di Star Rail. Mentre invece lo stesso non si può dire, appunto, di Genshin Impact. Cioè, all'interno di Genshin Impact non ci sono meccaniche esclusive che si sbloccano solo dopo che prendi un personaggio, in questo caso il Traveler. Non è mai stato così. Quindi, fare un paragone di questo tipo, secondo me, non ha senso proprio perché il Traveler non ti offre una meccanica esclusiva. E quindi, andare a dire che, guarda, hanno lo stesso livello di potenza, penso, credo, che sia abbastanza inesatto al momento. Al di fuori di questo, però, dato che si sta parlando tanto anche della signorina Mawika, è giusto per darti un'idea all'interno della beta, immagino, o quanto meno da quello che si dice della versione 5.2, la signorina Mawika ha il suo kit in versione di test con il personaggio di Sha Ling. E quindi già da qui, insomma, alcune ipotesi che potrebbe essere un buon applier o chissà cos'altro. Ora, appunto, dato che si sta parlando del Traveler, del Trailblazer, hanno detto, guarda, se non ti vogliono dare un personaggio rotto con il personaggio, appunto, gratuito, almeno te lo daranno con la signorina Mawika, che sicuramente avrà un kit, non ti dico rotto, ma un kit molto utile, stiamo parlando di un Arconte. È lecito aspettarsi, ed è giusto aspettarsi, qualcosina di più. Però, anche qua, io vorrei andarci un pochino con calma, cioè che non credo che basterebbe, appunto, rendere Mawika una must pull, perché già lo è, e quindi far uscire un Traveler di Pyro che poi magari non serva a niente. Secondo me sarebbe un peccato. Quindi quello che mi aspetto io è di avere un personaggio, in questo caso il Traveler, Luminator, quello che è, che possa avere un kit più potente, o quantomeno che possa fare qualcosina di interessante. Poi non ti dico che deve essere per forza una must pull, DPS, Applier, che fa danni con reazioni alimentari, questo non lo sappiamo. Però, certo, non fate una roba simile al Traveler di Hydro. Il Traveler di Hydro è una barzelletta, sia a livello di animazioni, sia a livello di utilizzo in gioco. Però, appunto, questo paragone che puoi trovare su Reddit, Twitter e tutto il resto, mi ha fatto abbastanza ridere, perché essenzialmente Genshin e Star Raid sono proprio giochi diversi, e commentare li devi considerare, non li puoi mettere sullo stesso piano, perché se ti danno il Traveler di Imagining lo hanno reso più potente anche e soprattutto perché i personaggi di Imagining non sono tantissimi nel gioco, quantomeno non sono accessibili al di fuori di Yukong, quando te la danno, appunto, gratuita e poche altre robe. Quindi, il senso stesso di andare a dire, guarda, uno è come l'altro, secondo me, non è tanto giusto. Poi, potrei sbagliarmi, eh, ci mancherebbe. Però, capito, ogni tanto si parla, appunto, tanto di alcuni leak che puoi trovare in rete, poi la veridicità del tutto è sempre una cosa secondaria, e devi solamente valutare l'opinione o quasi, insomma, di quello che ti vanno a dire a livello di leaker e tutto il resto, che io, lo ripeto, da una vita, mai fidarsi troppo dei leaker che sono delle drama queen allucinanti. Però, detto questo, aspettiamo, magari, nelle prossime ore, nei prossimi giorni, ci diranno qualcosina di più per quanto riguarda, appunto, il Traveler, la signorina Mawika, contanto che devono arrivare i leak veri e propri, appunto, di Chaska e di Ororon. Forse in rete potrai già trovare qualcosina per quanto riguarda il kit dei PG, però, fino a quando non si vedono le animazioni, penso che dovremmo, appunto, aspettare a dare un giudizio, perché, purtroppo, il senso stesso di avere un personaggio con l'arco, in questo caso con la signorina Chaska, può significare tutto o niente. Cioè, potrebbe veramente essere un personaggio sbroccato, oppure potrebbe essere una squadra di tutti inutili. Così come anche il Traveler, alla fine, cioè, dare un giudizio ha senso quando tu hai tutti i dati a disposizione. Dato che non li abbiamo, è inutile fare paragoni, perché devi considerare il contesto nel quale va uscendo il personaggio e anche perché il gioco si apre a X piuttosto che Y, piuttosto che Z e tutto il resto. Quindi, giusto per specificare, appunto, si sta parlando tanto di queste cosine a livello di, insomma, Star Rail, Genshin e tutto il resto, però di concreto c'è poco e nulla. Poi, io vorrei vedere, come ti ho detto prima, un bel Traveler che possa fare più cose, però la certezza di tutto ciò ce l'avremo solamente nei prossimi giorni, barra prossime ore. Tu hai detto che non hai visto di cosa parlano i leak, quindi che ne sai che non si apriranno meccaniche esclusive anche su Genshin? Beh, non c'è bisogno di vedere queste cose, Zain, lo sai perché? Perché gli sviluppatori stessi hanno detto due anni fa che non si sarebbero aperti a meccaniche rivoluzionare per quanto riguarda il sistema degli elementi di Genshin. Quindi, tenendo in considerazione questa informazione, noi già sappiamo e abbiamo già visto tramite, appunto, la meccanica dell'impeto dell'aima della noto, questi punti della grazia della noto, come cavolo si chiamano, che, appunto, lato meccaniche Genshin in questo momento non ti offre nulla di così tanto eccezionale. Al di fuori di questo, è vero che non ho visto questi leak, ma lo sai perché non li ho visti, Zain? Perché non sono usciti. Tutto qua. Non ci sono leak che ti dicono guarda, questo è il kit del traveler di Pyro e quindi possiamo fare un confronto. Quindi, come ti ho detto prima, dobbiamo basarci semplicemente sull'opinione di un leaker che per riassommere il tutto ti va a fare questi paragoni, che potrebbero essere assolutamente forvianti. Però c'è chi vuole cavalcare l'onda di queste cose e convincerti di X, Y, Z e tutto il resto. E chi invece vuole, come sottoscritto, cercare di dirti guarda, fa' attenzione perché non è detto che vedremo determinate cose all'interno del gioco. Tutto qua. Quindi, quando io ti dico che non vedo qualcosa, faccio riferimento a notizie ufficiali o quantomeno a quello che trovi su Reddit, Zain. E comunque su Genshin c'è già una meccanica esclusiva, ovvero il Super Bloom di Nilu. Sì, ma non è la stessa cosa, Zain. Dai, non confondiamo troppo il tutto. Il Super Break è un break aumentato, sicuramente, ma è appunto una cosa che tu non puoi fare al di fuori di un altro personaggio. Certo che Nilu probabilmente rientra anche in questa meccanica, ma, cioè, non so se lo vogliamo definire così. Perché Nilu è un personaggio limitato e quindi qualsiasi cosa lei ti può offrire al senso nel suo kit. Mentre invece il Trailblazer Imaginary ti offre questa meccanica perché al momento è l'unico personaggio ed è quello free to play che appunto ti permette di fare questo. Cioè, per farti un esempio un pochino più particolare, senza il Super Break tu non riesci a fare la sfida contro Sunday. E quindi è importante mettere un personaggio accessibile, facile da buildare e che sia anche forte. In questo caso il Trailblazer. Il Super Bloom di Nilu non ti serve a sbloccare contenuti o altro, eh? Assolutamente no. Auf mi chiede Sianyun. Sianyun pure questa è la stessa cosa. Cioè, a livello di, come ti posso dire, di esplorazione, certo che sono tutte cose utili, ma non sono necessarie. Cioè, se tu vai a vedere, ti danno un sacco di gadget o meccaniche di esplorazione, soprattutto all'interno di Natran, che tu vai a sfruttare senza dover appunto prendere personaggi come Venti, come Sianyun, Kazuha, Scaramouche. E questo è il senso. Capito? Cioè, una cosa è una meccanica fondamentale, che ti serve perché se no non puoi andare avanti nel gioco, e un'altra cosa è una meccanica secondaria che ti offre X personaggio, che è molto limitato, quantomeno che rimane una gimmick del PG. Sono due cose diverse. Il Trailblazer in questo momento è una meccanica fondamentale. Un pochino come ai tempi, quando hanno messo la signorina Collei, che aveva l'arco di Dendro e quindi ti serveva per fare le meccaniche appunto di Puzzle all'interno di Sumeru. E quello è il senso. È una meccanica fondamentale. Mentre invece, da quello che appunto si può dire al momento, il Traveler di Pyron non dovrebbe avere nulla di tutto ciò. Per questo, e per altri motivi che ti ho già detto prima, non ha senso fare un paragone di questo tipo. Grazie. Grazie.